Iniziamo con l'oggetto numero 9, interroga la consigliera Porzi, giusto? E risponde l'assessore Coletto, intendimenti della giunta regionale sul riconoscimento del bonus economico a tutti gli operatori coinvolti nella battaglia contro il Covid. Questa interrogazione l'abbiamo presentata insieme alla collega Meloni a cui darò la parola successivamente per la replica e parte appunto dalla valutazione di quanto impegnativo sia stata questa gestione dell'emergenza Covid per il nostro personale sanitario. Abbiamo visto che con l'intensificarsi della diffusione del coronavirus la regione Umbria come tutta l'Italia e poi il resto del mondo è stata investita da questa battaglia sanitaria contro un nemico che fortemente ha stressato il nostro sistema nazionale e anche quello regionale. La regione Umbria ha dovuto programmare l'aumento dei posti di letto in terapia intensiva. Abbiamo visto che il 30 gennaio 2020 l'OMS ha dichiarato l'epidemia di coronavirus in Cina un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Quindi è stato dichiarato questo stato di emergenza che sappiamo durerà fino almeno per adesso fino alla fine del mese di luglio. In questa lunga e faticosissima battaglia noi dobbiamo riconoscere che tutti gli operatori del mondo sanitario della nostra regione hanno dato prova di un autentico eroismo e di un livello etico veramente molto elevato oltre che di grande professionalità. Questo intenso lavoro unito al rigoroso rispetto del lockdown ha permesso alla nostra regione di rimettersi in movimento nei limiti previsti dai regolamenti anche nazionali. Il volume di lavoro e di impegno degli operatori sanitari ha consentito all'Umbria di riaprire importanti attività commerciali come bar, ristoranti, parrucchieri che stanno piano piano dando un segnale di ripresa sia pur faticoso alla nostra economia. Non sto qui a elencare i dati che al momento in cui l'interrogazione è stata scritta ci sembravano particolarmente interessanti perché ne abbiamo dibattuto già altre volte, però mi sembra importante sottolineare che ci sono state figure professionali all'interno del mondo della sanità che risultano esclusi dai bonus che sono stati conferiti alla sanità pubblica. Voglio ricordare che i primi giorni di maggio, quando si è concluso il confronto tra i sindacati e l'assessore alla sanità della nostra regione, Dottor Coletto, per il riconoscimento di un bonus economico Covid, qui la cifra parla di 12 milioni di euro complessivi che sono stati messi a disposizione dal governo centrale con il decreto Salva Italia, questo accordo ha portato a una nota dell'assessore che è appunto dichiarato si tratta di un accordo significativo che vuole essere anche un riconoscimento morale verso tutti gli operatori sanitari che in questa fase di emergenza si sono esposti a rischi e hanno affrontato con sacrificio momenti di lavoro che hanno richiesto energia e professionalità fuori dall'ordinario, ma vuole essere anche una testimonianza del lavoro svolto da tutti gli operatori che ha permesso alla sanità dell'Umbria di essere un modello anche nell'emergenza Covid. La decisione di escludere da questo bonus tutte quelle categorie di operatori non dipendenti dal servizio pubblico sanitario ha rischiato di creare operatori di serie A e di serie B, nonostante tutti abbiano combattuto fianco a fianco, ininterrottamente, per oltre due mesi, alcuni di loro sappiamo si sono ammalati e purtroppo sono rimasti fuori da questo riconoscimento. Quindi l'intento di questa interrogazione è quella di chiedere se la giunta regionale vuole adoperarsi come hanno fatto anche altre regioni, perché magari questo bonus economico che è stato previsto nel decreto e che era riferito soltanto alla categoria dei sanitari, non crei magari quelle discriminazioni e veda anche la nostra giunta a stanziare delle cifre che vadano a colmare questo gap per dare un riconoscimento e un ringraziamento a tutti coloro che ne sono stati esclusi. Non nomino nessuna delle categorie, perché vorrei evitare di dimenticarne alcune, ma sappiamo che sono tante le persone che si sono spese, con grande sacrificio, con grande dedizione, non risparmiandosi, veramente mettendo dietro le spalle la paura di andare incontro all'opportunità di un contagio probabile possibile, non avendo magari ancora tutti gli strumenti per poter affrontare questa... Consigliere Porzi ha sporato notevolmente replica e illustrazione. Per cui, ecco, questa era la domanda. Grazie. Consigliere Assessore Coletto, grazie. Grazie Presidente. In riscontro all'interrogazione si rappresenta che l'azione portata avanti da questa Regione per il riconoscimento dell'eccezionale sforzo profuso del personale coinvolto nella Regione dell'emergenza sanitaria sono improntate al pieno rispetto della cornice normativa delineata a livello centrale per il potenziamento del sistema sanitario nella fase emergenziale. Ci si riferisce in particolare alle disposizioni emanate dal Governo con il decreto legge 17 marzo 2020 numero 18, il Cura Italia appunto, convertito con legge il 24 aprile 2020 numero 27, recentemente modificato al DL 19 maggio 2020 numero 34, decreto rinancio. Tale premessa è doverosa per il corretto inquadramento delle azioni di impiego delle risorse intraprese da questa Regione, peraltro avallate dall'ARAN e dal gomitato di settore. Entro i canoni di legittimità e correttezza si colloca infatti il riconoscimento del bonus di produttività straordinaria stabilito d'accordo finalizzato all'assegnazione e all'utilizzo delle risorse salario accessorio per la gestione dell'emergenza Covid-19, sottoscritto con la quasi totalità delle organizzazioni e confederazioni sindacali il 5 maggio ultimo scorso, attuativo di quanto previsto dall'articolo 1,1 del decreto Cura Italia, che espressamente disciplina il finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, mediante le erogazioni di specifiche risorse volte ad incrementare i fondi disciplinati e i contratti collettivi nazionali del comparto e della dirigenza. Alla luce delle sue esposte argomentazioni, non sussistono le condizioni per la remunerazione di personale non dipendente delle aziende sanitarie regionali. Resta in ogni caso inteso che categorie di operatori, esclusi dalle vigenti disposizioni, potranno essere remunerati laddove tale previsione sia introdotta a specifici interventi normativi. Grazie. Purtroppo non siamo soddisfatti della risposta perché la nostra richiesta era quella anche sulla base di quanto fatto anche da altre regioni, ma soprattutto per lo sforzo e l'impegno e l'abnegazione che hanno dimostrato i sanitari tutti, senza distinzione di contratto e di ruolo in questo momento così complicato. Sostanzialmente noi chiediamo un intervento della Giunta proprio per andare a colmare e a premiare tutti i sanitari che credo in questo momento non abbiano solo bisogno di una pacca sulla spalla, quella doverosa, l'abbiamo fatto in tutti i luoghi e tutti, ma anche di un riconoscimento serio che riconosca veramente il lavoro che hanno fatto in questi mesi con spirito di abnegazione e anche con grande sacrificio isolandosi anche dalle proprie famiglie. Credo che questo sia assolutamente un atto dovuto verso la nostra comunità sanitaria. Oggetto numero 10 interroga il Consigliere Bianconi, co-housing di Nocera Umbra, la parola risponde dall'assessore Coletto, la parola al Consigliere Bianconi. Assessore, sono partito ieri e sono andato a vederlo questo luogo, questo luogo a Nocera, perché è un luogo speciale a mio avviso. E racconto anche ai consiglieri velocemente questa esperienza. Un luogo dove 14 anziani hanno cercato di difendere il loro diritto economico anche e sociale ad essere indipendenti. E questo è stato possibile grazie a una disponibilità che c'è stata da parte del Comune di Nocera e da parte dell'Asle numero 2. Ricordo in estrema sintesi, questi anziani costavano alla Asle numero 2, al Comune di Nocera, 150 mila euro al Comune di Nocera e 150 mila euro alla Asle numero 2. Il Comune di Nocera non è stato più in grado di provvedere per i suoi problemi di bilancio a questo pagamento e aveva predisposto il loro spostamento in più sedi. Loro si sono opposti e a loro spese totalmente, non essendo più a carico né dell'Asle numero 2 né del Comune, si sono pagati fino ad oggi totalmente le loro assistenze, chi gli produceva da mangiare, le pulizie e quant'altro. Quindi hanno sgravato il Comune e addirittura l'Asle numero 2 di 150 mila euro per entrambe le situazioni. Cosa avevano ottenuto in cambio? La possibilità di gestire al loro carico un luogo, di garantirne la manutenzione ordinaria e per questo il Comune di Nocera cosa aveva fatto? Aveva fatto un cambio di destinazione perché quel luogo era stato costruito con risorse importanti di Mediaset, dei Lions e di altri donatori durante il terremoto del 1997 per un housepiece che non è stato mai aperto e come tante altre strutture di proprietà di enti regionali e comunali stava andando in malora. Su questo luogo loro hanno speso più di 30 mila euro loro di manutenzione straordinaria per il tetto, per la centrale termica. Sono stato a vederlo, è tenuto in maniera impareggiabile e vi inviterei a voi anche consiglieri ad andarlo a vedere. La prima cosa che mi hanno detto quegli anziani, noi da qui non ce ne vogliamo andare, siamo autonomi, ci paghiamo tutto da soli e vedere persone di 85 anni, 90 anni, avere questo orgoglio di sentirsi autonomi e di non sentirsi un peso per nessuno secondo me è qualcosa di straordinario. È l'orgoglio che fa la differenza. Io ho visto negli occhi di questi anziani questo orgoglio. Si parla di non rispetto delle norme, non è così. Ho visto le carte e invito anche voi ad andare a vedere le carte. Il luogo è agibile, gli è stata concessa agibilità, i metri quadrati sono rispondenti, i bagni sono a posto, non c'è un vincolo di destinazione del terreno perché quella particella è nel posto giusto. Poi hanno avuto delle cose strane, hanno avuto addirittura un controllo dei NAS, un controllo dei NAS, vi ricordo, che non si può fare su un'abitazione, loro hanno il titolo di residenza, è come se i carabinieri venissero a casa vostra a controllarvi quello che tenete nei frigoriferi. Comunque vi invito poi ad andarlo a vedere, così mi farete meglio un'idea. Qual è la cosa che vi chiederei? Oggi loro sono in difetto su una cosa, che quel cambio di destinazione d'uso che gli è stato dato era a tempo e anche la ASL l'ha concesso a tempo. Consigliere Bianconi, ricordo la regola a tutti, se no non c'è lo spazio per tutti gli altri question time per le riprese televisive. I tre minuti comprendono l'illustrazione e la replica, lei ha quattro minuti, ma non per lei perché dopo altri consiglieri non andranno sulla tv. Vado a concludere, cosa servirebbe oggi? Semplicemente che la ASL facesse un bando, una gara di bando per affidare questo bene e questo permetterebbe al Comune di fare poi il cambio di destinazione definitivo. La regione non si può permettere, andando avanti, di gestire soltanto le RSA e le RS perché non abbiamo i soldi e gli anziani, questa è una delle regioni più vecchie d'Italia, e gli anziani aumenteranno. Quindi un modello come questo è virtuoso che andrebbe replicato e preso da chi governa questa regione come modello. Grazie. Assessore Coletto. Grazie Presidente. A seguito degli eventi sismici del 1997, l'ospedale di Nocera Umbra, avendo subito gravissimi danni strutturali, è stato completamente demolito e successivamente ricostruito con realizzazione di una nuova struttura costituita da quattro moduli destinati progettualmente a centro salute, centro di riabilitazione cardiologica, unità curie palliative e comunità terapeutica. La casa di riposo non c'era Umbra, struttura per autosufficienti al 100% a carico del bilancio sociale dei comuni che risultò anch'essa danneggiati reparabilmente del sisma del 1997. Inizialmente i dieci ospiti di questa struttura furono trasferiti in un container attrezzato al fine di garantire la comunità assistenziale nella fase dell'emergenza. È registrato un forte ritardo nella ricostruzione della casa di riposo ed essendo al contrario terminata la ricostruzione di parte della struttura sanitaria sopraindicata, il Comune di Nocera Umbra chiese all'ASL di poter usufruire temporaneamente gli spazi necessari. L'ASL si dichiarava favorevole all'utilizzo di locali con oneri relative alla gestione e manutenzione a carico del Comune. Il Comune delegò l'azienda alla gestione della casa di riposo impegnandosi a rimborsare le spese di gestione. Nel 2017, a caso dell'elevato costo della gestione di circa 300 mila euro, Nocera Umbra deliberava di voler realizzare una diversa organizzazione territoriale dei servizi agli anziani nella nuova sede di proprietà comunale situata nelle immediate vicinanze del centro sanitario polivalente. La data di cessazione era fissata per il 31-3-2018, essendo per tale giorno prevista l'apertura di una nuova struttura di sua proprietà. Alla data fissata, tuttavia, i lavori non erano completati e nel frattempo i sette ospiti su dieci erano stati valutati non autosufficienti. Nonostante si fosse ipotizzato o valutato una soluzione transitoria che avrebbe visto il coinvolgimento della residenza protetta a Casa Serena, della residenza servita a Foligno per il tempo strettamente necessario, viste le proteste sollevate in particolare dal Comitato a difesa degli anziani non c'era Umbra, vi fu un'ulteriore dilazione della chiusura della Casa di Riposo fino al 31-5-2018, poi autorizzata un ulteriore tempo massimo di un anno. La gestione della struttura è stata garantita direttamente dal Comitato che nel frattempo si costituiva in associazione denominata Casa Famiglia non c'era Umbra Onlus. Ciò nonostante, pur se la nuova struttura, come si veniva a configurare, non trovava riscontro in alcuna tipologia di struttura prevista nell'organizzazione regionale, l'azienda sanitaria tramite il Centro della Salute non c'era Umbra ha continuato a garantire le cure infermieristiche necessarie su richiesta del medico curante, con disponibilità anche a monitorare, seppur indirettamente, le condizioni generali di salute degli ospiti. Alla scadenza del termine previsto, alla formale richiesta ulteriore, ennesima proroga, l'ASNA, formalizzava la richiesta di cessazione dell'occupazione dei locali utilizzati temporaneamente ai fini abitativi, mancando peraltro il requisito dell'abitabilità per tali fini. Nel frattempo, da un lato, vi fu una rivalutazione degli ospiti alla quale emerse che a tutti i dieci erano non autosufficienti, dall'altro fu terminata la nuova struttura, affidata in gestione, autorizzata all'esercizio di attività di residenza protetta per anziani non autosufficienti per sedici posti letto e accreditata. Il Comune di Unicera Umbra informava pertanto gli interessati, ai quali venivano riservati in via prioritaria dieci posti dei sedici disponibili. Serrata corrispondenza intercorsa, fece emergere la chiara volontà degli ospiti di non voler accedere alla nuova struttura. Alla fine la direzione aziendale ha dovuto procedere con lo scorrimento della graduatoria dei pazienti che richiedevano di entrare in struttura. A tutt'oggi i locali di proprietà dell'Asla, patrimonio indisponibile col vincolo di destinazione sanitaria, sono attualmente occupati dall'associazione senza titolo. Gli anziani sono attualmente 14 e che tutti risultano non autosufficienti. A seguito di verifica del NAS di Perugia è stato verificato che l'Asla, lo stato di tutti gli ospiti presenti nella struttura gestita dall'associazione Casa Famiglia che nel contempo erano passati a 14. Orbene tutti i 14 sono risultati non autosufficienti. 12 sono anche riconosciuti in vari di civili al 100% con indennità di accompagnamento. L'azienda ha pertanto ribadito la necessità di ricollocare i 14 anziani non autosufficienti nelle proprie case o con i familiari o in una residenza protetta. In merito alla vicenda in questione pare opportuno inoltre sottolineare quanto segue. Lo stabile di proprietà aziendale attualmente occupato è stato realizzato con precisa destinazione sanitaria e comunità terapeutiche e quindi la struttura non è pienamente congruente con i requisiti strutturali generali previsti dal DPR del 14.1.97 per una residenza protetta. In vero quest'ultima non necessita di uno spazio soggiorno singolo per utente ma richiede il bagno assistito con idonee attrezzature per l'attività di disabilità. L'area destinata alla valutazione e all'erogazione delle attività specifiche di riabilitazione e i locali. Questi ultimi sono progettati e realizzati presso e fabbricato in argomento. Si precisa infine che il personale sanitario dell'azienda effettua prestazioni assistenziali principalmente rilievi parametrici, prelievi medicazioni nell'ambito del servizio e assistenza domiciliare al letto degli ospiti sempre dietro richiesta e prescrizione dei medici curanti e o medici di continuità assistenziale. Per le prestazioni rese presso la sede della casa famiglia gli infermieri dipendenti dell'azienda impiegano esclusivamente presidi e materiale sanitario in dotazione al punto di erogazione PES di Nocera Umbra. Alla luce dell'emergenza Covid-19 è stata attivata a decorrere a 2 aprile 2020 la sorveglianza sanitaria per gli ospiti della casa famiglia di Nocera Umbra, secondo i protocolli aziendali. Trattasi di assistenza aggiuntiva all'ordinaria assistenza domiciliare prestata dall'operatore di distretto di Foligno attivata su richiesta di medici e medici in generale. Quindi i pazienti o ospiti che dir si voglia di questa casa di riposo sono monitorati in continuità e assistiti nonostante che la situazione non sia, fra virgolette, perfettamente allineata alla norma. Grazie Assessore. Consigliere Bianconi, una breve replica perché ricordo che ha già quasi consumato il tempo a sua disposizione. Grazie. Grazie Presidente. Purtroppo Assessore ha detto delle cose imprecise. Io ho visto personalmente l'agibilità della struttura, quindi carta canta. Quindi la struttura è agibile. Non deve essere un RS o un RSA perché ha avuto un cambio di destinazione a residenza, che è un'altra storia. Loro vogliono semplicemente avere la possibilità di continuare a stare in quel luogo partecipando ad una gara che dovrebbe indire l'ASL per fare in modo che quell'immobile non vada in malora. Ricordo quell'immobile è fatto da quattro edifici all'interno del quale ci sono, magazzini delle scuole, la proloco locale. Quindi diciamo che gli unici ad aver ricevuto lo sfratto sono gli anziani, per logiche che non hanno niente a che vedere con la gestione della cosa pubblica nel miglior modo possibile. È pieno di edifici che vanno in malora in questa regione. Abbiamo liste di attesa nelle RSA infinite e ci sono soggetti anche in altri comuni che potrebbero organizzarsi senza mandare in malora il patrimonio di lizio di questa regione. Di questo si tratta. I loro costi di gestione sono di 140 mila euro l'anno che si pagano tutti. Prima costavano 340 mila euro l'anno. Quei 300 mila euro che questa regione risparmia li potrebbe investire in assistenza ad altre forme che non hanno né risorse e di disabilità di diverso tipo che a volte nemmeno ce l'hanno. Occorrono nuove regole, siamo qui per questo. Vi invito tutti ad andare a trovare questi anziani e a vedere questo luogo prima di prendere decisioni. Grazie. Passo all'oggetto numero 11, un'interrogazione del consigliere Bori all'assessore Melasecche sui intendimenti della giunta regionale in favore del potenziamento del trasporto pubblico locale, e sostegno ai lavoratori e alle aziende del servizio dei trasporti pubblici in Umbria. Prego, consigliere Bori. Grazie, Vicepresidente. Noi abbiamo sempre detto che vogliamo una regione, un'Umbria, che sia non solo cuore verde d'Italia, ma cuore verde d'Europa. In realtà l'Umbria purtroppo si rivela più spesso polmone nero per l'elevatissimo accesso al mezzo privato e lo scarso utilizzo del mezzo pubblico. Questo si è rivelato ancora più forte durante l'emergenza coronavirus, e lo dobbiamo registrare come un dato da combattere. Noi dobbiamo incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico in ogni sua forma, gomma, ferro, mobilità alternativa, e disincentivare l'utilizzo del mezzo privato. In questo è chiaro che l'offerta del servizio è un tema fondamentale e centrale. Con questa interrogazione vogliamo mettere in evidenza il fatto che ad oggi c'è una drastica riduzione delle corse. Il tema è fondamentale soprattutto per alcune fasce di popolazione. Le persone che vivono nei piccoli centri e si devono spostare verso centri più grandi per andare a lavorare o a studiare, a fare le loro attività, e per le fasce economiche più deboli e per gli anziani. Questo è il tema che noi vorremmo affrontare qui, dal lato dei cittadini e dell'utenza. Poi c'è un altro lato, che è quello delle aziende che sono messe in crisi da una drastica riduzione dell'attività e quindi anche dei fondi, e dei lavoratori, il cui 50% sono messi in fondo di solidarietà. Questo è il quadro in cui ci muoviamo. La nostra richiesta e l'interrogazione che facciamo alla Giunta e all'assessore si muove su questi binari. La prima questione è il se e il come si intende potenziare e riattivare a pieno il servizio di trasporto pubblico regionale, in particolare nelle zone regionali più decentrate, in modo da garantire una copertura e un soddisfacimento sufficiente ed ampio dei bisogni dei cittadini. La seconda questione a cui vorremmo risposta è se e quali misure di sostegno si intendono determinare come Giunta regionale ai lavoratori e alle aziende del trasporto pubblico regionale, che svolgono un servizio essenziale e inderogabile. E se, quando e soprattutto come, la Regione Umbria intende definire le azioni concrete di supporto alle aziende erogatrici del servizio, in particolare alle aziende del trasporto pubblico regionale, liquidando i corrispettivi economici spettanti. Queste sono le domande a cui noi chiediamo risposta, delineando un quadro che è quello che ho detto, che fa attenzione ai cittadini, ai lavoratori, alle aziende e al servizio e che crea una prospettiva che è quella di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico, che sia su gomma, su ferro, qualunque modalità, rispetto all'utilizzo dell'auto privata. Se non c'è questo cambiamento culturale, se non c'è la possibilità di farlo con un servizio adeguato, si continuerà purtroppo a ricorrere all'auto privata e ad inquinare la nostra aria. Il tema è sicuramente molto interessante e ben difficilmente è possibile approfondirlo in pochi minuti. Io posso confermare innanzitutto l'impegno notevolissimo di questa giunta nel riorganizzare completamente il servizio trasporti. Chi sa e vuole approfondire può venire da me e spiego molte altre cose oltre quelle che posso ora fissare in poche parole. La struttura del servizio trasporti l'abbiamo ereditata disintegrata con dirigenti, funzionari che mancavano completamente. Quindi abbiamo dovuto rispondere all'emergenza continua mentre andavamo a reintegrare la struttura. Poi tutti sanno, penso che il Consigliere Bori sappia benissimo qual è la situazione che abbiamo ereditato sul fronte dei trasporti, perché abbiamo un pressing continuo dell'amministratore delegato di Busitalia, perché la Regione dice, sostiene, deve far fronte ancora dai 30 ai 35 milioni di debiti lasciati dalla precedente amministrazione sul fronte del pregresso, oltre a riorganizzare completamente la nuova agenzia, compito vi assicuro di assoluta difficoltà, per eliminare dai 15 ai 18 milioni di disavanzo annuale. Questo è il quadro che abbiamo ereditato. In questa situazione abbiamo fatto i salti mortali. Primo, cercando di pagare tutto quello che potevamo in base al bilancio, in base alle norme di legge. Quindi abbiamo saldato, ad esempio, tutto il primo bimestre, mano a mano che pervenivano le fatture. Spesso le fatture pervengono senza DURC, per cui purtroppo non possiamo effettuare dei pagamenti, perché basta che una sola impresa non ha il DURC in regola e non possiamo provvedere. Ma abbiamo fatto molto di più, perché questa Regione, rispetto all'ipotesi prevista dal Governo di anticipazione nei confronti delle imprese, del 80% entro luglio, abbiamo deliberato, proprio per venire incontro alle imprese e ai lavoratori, il pagamento del 100% di marzo-aprile e del 90% fino ad agosto. Questo è in corso. Ovviamente occorrono procedure normative chiare, cioè occorrono le fatture, occorrono che i Comuni provvedono alle loro incombenze. Stiamo in accordo continuo, quotidiano con Busitalia, che rappresenta le tre SCARL, e stiamo quindi provvedendo, per quello che ci riguarda, a fare tutto quello che è nelle nostre possibilità. Aggiungo, è in corso la procedura particolarmente difficoltosa, come dicevo prima, per creare la nuova agenzia, da quella che è la Bad Company, Umbria Mobilità, con problemi che noi tutti conosciamo, senza che adesso li vada a descrivere, e con le banche che ad oggi non hanno sottoscritto un accordo di non aggredibilità del Fondo Nazionale Trasporti, cosa che ci impedisce di procedere, perché come tutti comprendono, andare a realizzare l'agenzia per andare a risparmiare circa 9-10 milioni l'anno di IVA, è difficile se le banche aggrediscono il Fondo Nazionale Trasporti che noi trasferiamo all'agenzia. Nonostante queste difficoltà, siamo sereni, perché abbiamo fatto molto di più di quello che avremmo dovuto nella situazione difficilissima ereditata. Chiunque voglia poi avere dettagli ulteriori, visto il tempo che non ho qui a disposizione per entrare nei particolari, sono a disposizione. Posso fare incontri insieme alle società di gestione, in modo tale che sia chiaro quanto ha fatto la Regione. Ovviamente attendiamo per erogare i fondi, i famosi 500 milioni che ha da tempo promesso il Governo, quando arriveranno concretamente, nella misura spettante all'Umbria provvederemo ad erogare anche quegli importi. Ricordo che uno dei problemi seri è che si attende da parte della Comunità europea una definizione di quanto dobbiamo erogare per evitare di andare a pagare alle aziende più del dovuto, in quanto durante il periodo del coronavirus chiaramente i costi per le aziende sono abbastanza più limitati in termini di carburanti, di ammortamento di mezzi dei dipendenti che sono stati posti in ferie e nel fondo bilaterale di solidarietà. Noi siamo sicuramente sereni di aver fatto più del nostro dovere. Se ci sono proposte specifiche siamo qui a collaborare per prenderle in considerazione. Bene, grazie. Consigliere Bori. Sì, Assessore, coglieremo l'invito per approfondire, nella speranza che non la costringa Salvini ai dimissioni come risulta dai giornali, approfitteremo per venire ad approfondire il tema. Nella sua ricostruzione dimentica però il fatto che aver creato una nuova agenzia comporta il risparmio dell'IVA su tutto il trasporto, il che sono risorse notevoli che si liberano per la Regione 1. Si libereranno, certo, e d'altronde non sono retrospettive. Comunque il tema per noi rimane sul campo. Il tema è offrire un servizio essenziale ai cittadini, che siano lavoratori, che siano studenti, che siano anziani. Noi è da questo che partiamo. Lei ha dato una grande attenzione al tema di fatture, pagamenti, è legittimamente. Noi vorremmo ribaltare anche questa visione dicendole che non è un servizio burocratico questo, ma è un servizio essenziale per la cittadinanza. Chi lavora in Umbria, chi studia in Umbria, chi viene a fare turismo in Umbria. Per fare turismo il trasporto pubblico è fondamentale. Quindi l'invito e il sollecito è, sia per i lavoratori e per le aziende, sia per chi utilizza questi fondi, a cambiare marcia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.